giù e stop e primo spinta a giro dobbiamo un c'è facciamo questo esco lo so, applico forza ma non lo faccio giù questo non serve perché nel centro comunque è questo baffo baffo e poi avanti attraverso l'asse uno, due, tre qui qua cedo uno, cedo poi dopo vedremo con il calcio prima cominciamo su questo quindi faccio uno, due tre cliccato come forma su questo uno due quando prenderà ancora quindi questo è proprio gestione della situazione di stato uno può essere preso qua no spalla spalla uguale no no sì sì questo è forse dovrebbe anche essere solo questo lui gira le mani no io un po' 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 piede destro, non fate attenzione a non fare subito, ma accetto indietro, accetto indietro